Dopo la CNA arriva anche dal Consorzio di tutela Arancia di Ribera Doppe la richiesta al Sindaco e al Consiglio Comunale di individuare un sito alternativo per il travasso dei rifiuti, ritenendo inadeguato l'utilizzo del mercato ortofrutticolo per tale scopo, sia per la salute dei residenti, sia perché si tratta di una zona dove sono presenti aziende anche del settore alimentare, che lavorano tra l'altro frutti di alto prestigio per il territorio come l'Arancia di Ribera Doppe. La scelta inappropriata di travasare i rifiuti nell'area del mercato ortofrutticolo, scrive il presidente del Consorzio Salvatore Daino, determina non solo un danno di immagine ma anche il serio rischio economico derivante dall'eventuale rescissione dei contratti in essere con un danno per tutto il territorio. Il Consorzio di tutela Arancia di Ribera Doppe, al pari della CNA, chiede dunque che venga trovata una soluzione immediata e tutelato il valore dell'arancia, eccellenza agrumicola alla quale è stata attribuita dall'Unione Europea la denominazione di origine protetta. È soltanto una soluzione temporanea, non occorre individuare alcun sito alternativo perché entro il 31 agosto saranno completati i lavori all'isola ecologica e tutto tornerà come prima, dichiara oggi al nostro telegiornale il sindaco di Ribera, Matteo Ruvolo. Il sito è stato individuato temporaneamente perché la nostra isola ecologica, il CCR di Ribera, doveva fare dei lavori e ci sono dei lavori che sono partiti già un paio di settimane fa e che si completeranno entro fine mese per delle prescrizioni che erano state imposte dall'autorità giudiziaria, quindi era necessario intervenire, obbligatorio farlo e nel frattempo non si poteva lasciare il paese immerso nei rifiuti, bisognava assolutamente trovare un sito dove poter fare lo scarico gomma su gomma per quanto riguardava l'umido. Come mai è stata scelta l'area del mercato ortofrutticolo? Perché un'area intanto non quella che è stata individuata, non utilizzata da nessuno e che si prestava a questo tipo di scarico gomma su gomma, l'autorizzazione è stata chiesta all'ex provincia perché di proprietà quel sito del libero consorzio di Agrigento e il libero consorzio è venuto a fare un sopralluogo insieme ai tecnici e agli amministratori di Ribera Ambiente e hanno trovato quel sito idoneo e lo hanno concesso proprio per un limitato periodo di tempo. Ma ripeto, è soltanto una cosa momentanea che ci permette di poter fare questo scarico e non lasciare il paese in mezzo ai rifiuti, che ritengo sia la cosa assolutamente prioritaria dal punto di vista dei servizi da garantire e dal punto di vista igienico-sanitario. Quindi sia gli artigiani di quella zona, sia gli imprenditori che fanno capo al Consorzio Arance di Ribera Dopp possono stare tranquilli che non è un sito definitivo dove si resterà a fare questo tipo di scarico dei rifiuti che tra l'altro avviene tre volte soltanto la settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dalle 8 alle 11, con l'obbligo da parte di Ribera Ambiente di lasciare tutto in maniera pulita come mai quel sito si è trovato. Quindi nessun problema, i lavori al CCR saranno completati entro il 31 di questo mese e dopodiché si ritornerà all'isola ecologica a fare questo tipo di travaso dai furgoni agli scarrabili.